non sono pronta salve a tutti e benvenuti nel finalone di stagione di riverdale quarta stagione che si conclude con questo diciannovesimo episodio aiuto probabilmente non sarà la conclusione effettiva della serie perché appunto hanno dovuto ridurre le puntate causa covid e quindi questa quarta stagione si concluderà con il diciannovesimo episodio anziché proseguire fino al ventiduesimo se non sbaglio quindi io non mi aspetto che concludano tutto perché è impossibile concludere tutte le robe che sono successe in un'unica puntata ma sono comunque speranzosa tra l'altro oggi i miei capelli sono incasinati e senza senso proprio come questa serie, diciamo, volevo concludere in bellezza e niente, quindi ragazzi io direi che iniziamo subito perché non vedo l'ora, non vedo l'ora sigla ok, quindi comparazione tra le due cassette cioè tra due video di Jelen ok, quindi il tizio delle cassette sta cercando di ricreare le morti delle persone non sto capendo madonna, ma che palleone speriamo che muoia sì, vabbè, ok abbiamo capito che lui è sospetto abbiamo capito, però oddio l'università dell'Iowa wow dai, sono contenta per mi viene da dire Cody ma non è Cody di zocche e cote dato che Betty ha preso il suo posto a Yale poverino ecco, ma Veronica ha subito vabbè ragazzi, mi serve buono sordi tranquilli, eh tranquilla Veronica solo Arci ti sfrutta per queste cose nooo che la fanfiction inizi adorerei infatti se lo vado ad essere insieme al prom cosa? da quando? perché vogliono spaventarla a mo' vabbè che, insomma, non mi sorprende più di tanto ma, scusate, ma perché stanno diventando così cattivi? comunque mi piace che tutte queste cose stanno un po' riprendendo dei punti che ci sono stati in queste e nelle altre stagioni oh mio Dio ma lo stanno affogando nell'usciroppo d'acero what the fuck dai, seriamente? lo incollano le cose? sto male ed è vendetta, eh guarda che sguardo minacciocchio se non capite questa cheat Edward Cullen un po' da sgamo, però, ok ora capisco magari il titolo della puntata oddio, ho paura che questa cosa che sto scrivendo poi si trasformerà in realtà anche perché in questa stagione la cosa della scrittura era molto più presente l'hanno sempre usata per mischiare un po' fantasia in realtà quindi boh gli outfit di Cheryl sono sempre bellissimi comunque sta iniziando a farmi un po' tenerezza questo misterone poverino cioè, in fondo non ha fatto niente di brutto falso non ci crediamo Charles, non ci crediamo oddio, è vero che anche lei era cioè, era stata la morte durante il il coso della scuola attenzione flash becchini adesso si mette male si mette male Reginaldo vabbè vi stupito di Archie ma per favore lui è sempre coinvolto nelle cazzate Betty ormai è la mente criminale di tutto Reggie povero non ha idea dei suoi amici che vite fanno non ha idea comunque mi piace che sia molto nella scuola c'era da tanto che non vedevamo un episodio così cioè in cui sembra effettivamente che facciano delle cose da adolescenti nonostante stiano pensando di uccidere il preside però ok ah ne parlano con i genitori per la prima volta fanno qualcosa di normale cioè parlano con i genitori di problemi che hanno a scuola dato che loro sono adulti e possono risolvere le cose wow nooo raga i genitori nooo i genitori che tornano no sto malissimo proprio badass misterone e soprattutto ricordiamolo che Iram è un boss mafioso quindi Oney cioè meglio non metterselo contro cioè abbiamo visto che fine fa la gente che si mette contro Iram vado fp sto male un grande party da pops cosa deve fare odio un discorso di Cheryl Cheryl ah orgogliosi ma io avrei molte cose da ridire a riguardo ma vabbè guarda Iram detto da te proprio ma chi ce crede ma chi ce crede oh mio dio cioè è un momento molto cute in realtà è molto molto cute però orgogliosi di questi ragazzetti io non lo sarei attenzione sicuro l'ha fatto lui sto video sicuro madonna comunque questi due sono scemi pure le cose che scrive Jugger vabbè i più anti-sgamo di tutti poi Arci che parte così in quarta no guarda tranquillo non l'hanno capito che c'entrate voi non l'hanno capito sgamato no raga ecco perché c'era la cosa di Reggie oh per fortuna è finto oppure succederà veramente no raga io sto male ma che ansia cioè praticamente in questo racconto sono tutti dei pazzi raga che ansia oh nei è stato buttato fuori no raga ho un'ansia ho veramente un'ansia che tipo tutte le cose che ha scritto Jugger si realizzino tipo che magari il tizio delle cassette gli ruba il quello che c'è il racconto e lo trasforma in una cassetta che però è reale non lo so mi sta facendo dei viaggi per me per noi è normale tipo gli omicidi e tutte queste cose che ridere raga che ridere no no fa una brutta fine la Stonewall pure questo attenzione nessuno studente è morto oddio un'altra cassetta aiuto ma raga che ansia raga no raga che ansia che ansia che ansia che ansia oddio oh mio dio chi è chi è vi prego ditemi che scopriamo chi è sto cavolo di pazzo delle cassette voglio sapere no lo sapevo che lui lo veniva a sapere lo sapevo raga raga che dire non ha concluso proprio niente questo episodio ma un po' me l'aspettavo perché comunque come vi spiegavo anche prima secondo me faranno così cioè hanno concluso adesso la stagione e poi proseguiranno magari con la quinta direttamente oppure faranno una quarta seconda parte quando insomma si sarà sbloccata tutta questa situazione del covid perché appunto hanno dovuto ridurre le puntate per questa ragione e quindi insomma mi aspettavo che non ci sarebbe stato un vero e proprio finale e ci hanno ingannati tantissimo con il titolo di questo episodio perché tutti ci aspettavamo che Oni schiattasse eppure Reggie e invece no però devo dire che mi è piaciuto questo episodio nonostante tutto è stato molto più teen del solito quindi molta più scuola rapporti tra i genitori con i genitori con gli insegnanti tutte queste cose che spesso in Riverdale si perdono un po' in mezzo alle sottotramme dei serial killer però è stato carino mi è piaciuto anche come hanno gestito il personaggio di Mr. Ronnie che fin dall'inizio è presentato proprio come un villain e quindi piano piano ti fa sospettare di lui sempre di più e poi qui viene fuori che in realtà cercava di aiutare i ragazzi ma vi dico io metto le mani avanti non mi fido di lui fino a prova contraria cioè fino a quando non sarà del tutto conclusa questa questione delle cassette non mi fiderò di Mr. Ronnie perché non si sa mai che c'entri pure lui quindi devo dire che che non è un degno finale di Riverdale perché ovviamente non è un vero e proprio finale però devo dire che tutto sommato mi è piaciuto come episodio voi che cosa ne pensate? vi è piaciuta? non vi è piaciuta? vi aspettavate di più? vi aspettavate che effettivamente chiudessero tutta la stagione qua? non lo so fatemi sapere inoltre continuiamo con le nostre teorie sulle cassette secondo me io continuo ad essere sospettosa di Charles cioè c'è poco da fare secondo me è lui è lui perché ogni volta anche adesso ogni volta che arrivano delle cassette c'è quasi sempre lui di mezzo quindi io sospetto troppo e poi non mi va giù quella famosa scena con Chick quindi per forza dovranno tirarla fuori non mi sorprenderebbe se facessero finta di niente cioè tipo quella scena non è mai esistita però cioè sarebbe bene tirarla fuori e spiegare che effettivamente c'era Charles dietro a tutto questo perché mi pare per adesso l'unico plausibile potrebbe anche avere le motivazioni anche perché lui è il figlio di Alice ed FP e quindi magari ci sono dei casini familiari che non abbiamo ancora scoperto io immagino una roba del genere detto questo è stato molto bello vedere insieme questa quarta stagione perché abbiamo iniziato questo quest'autunno ad ottobre a vederla insieme e devo dire che mi sto divertendo cioè mi sono divertita moltissimo e vi prometto che appena riesco registro anche il riassunto della seconda parte perché abbiamo fatto le reaction fino ad ora però ho visto che il riassunto vi è piaciuto tantissimo e molti mi stanno chiedendo di fare la seconda parte quindi arriverà sicuramente ma datemi il tempo per insomma scrivere le cose e girare il video poi vi volevo dire un'altra cosa venerdì venerdì ricomincia scam quindi stavo pensando vi andrebbe di fare dei video come questi quindi video reaction agli episodi con mini commentino alla fine in cui chiacchieriamo di quello che è successo fatemi sapere se può interessarvi perché appunto Scam è una serie che mi piace tanto e visto che torna su Netflix sarebbe carino rivedercela insieme un po' come abbiamo fatto con Riverdale quindi noi ci vediamo prossimamente fatemi sapere se volete appunto i video di Scam e anche se vi va che faccia i riassuntini delle scorse stagioni di Riverdale quindi dalla prima alla terza riassunti fatti appunto come il video riassunto che ho fatto di questa quarta stagione metà stagione come al solito vi ricordo la mia collaborazione con Pampling quindi qui sotto trovate il link per poter usufruire del codice sconto per comprare magliette nerd ma anche poster nerd qualsiasi cosa a tema film e serie tv e appunto usufruire del mio codice sconto Cipollotto che vi permette di avere il 20% di sconto su tutti gli acquisti sul sito e poi vi ricordo anche di seguirmi su Instagram perché lì insomma vi tengo un pochino più aggiornati sulle cose magari anche su nuovi video in uscita oppure vi chiedo consigli sulle cose da fare qua sul canale e quindi niente se vi va di iscrivervi al canale fatelo pure grazie mille e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao